L'Avvocato Gaspari Morello è l'ideatore di questa giornata, il ricordo dell'immagine di Rosario Lipatino ma anche del rapporto tra la fede e la giustizia all'interno della vita di ognuno di noi ma all'interno della magistratura che è fondamentale. Oggi è una giornata intensa di lavoro, l'ho ideato io unitamente alla dottoressa Antonella Coronetta che ha fatto un gran lavoro e grazie anche alla sua caparbietà siamo riusciti ad arrivare a questo epilogo che adesso spero con l'aiuto del Signore si proceda tutto bene. Fede e giustizia io li ho individuati nella vita del beato Rosario Angelo Lipatino come due ferite e ferite perché la ferita è qualcosa che ci tormenta, che ci fa fremere, che non ci fa dormire e sia la fede che la giustizia lui li ha vissute in questo modo. Questa ferita gli ha fatto percepire il suo destino ultimo che era il martirio al quale è andato incontro con l'amore di Dio nel cuore. Persone come Rosario Angelo Lipatino, nonostante questo efferato delitto che pensavano di spegnere questa luce c'è una bella frase dell'arcivescovo Severaro, mi pare che si chiama così, che ha detto che pensavano di spegnere una luce e si è accesa una fiaccola. Comunque persone così audaci che hanno sacrificato la loro vita non muoiono mai. Io credo che Rosario Angelo Lipatino sia un modello non solo per la magistratura in un momento un po' anche delicato. Lui ha vissuto l'esperienza del giudicare nella sua dimensione ieratica, proprio sacrale. Per lui, siccome il giudizio è prerogativa di Dio, si doveva approcciare in maniera pura perché l'uomo da solo non è luce assoluta e quindi per lui la giustizia era donazione di sé, era preghiera e questa modalità così pervicace di avere addosso questa responsabilità lo rendeva unico. È stato anche dal punto di vista delle indagini molto strategico e ha intuito che il sistema finanziario alla base della criminalità organizzata era il cuore pulsante e quindi sulle sue intuizioni poi si è profilata una letteratura fiorita di legislazione che all'epoca non c'erano. Considera che Rosario Angelo Lipatino agisce in un territorio come la provincia di Agrigento dove la mafia è abbastanza radicata e in quel periodo specifico c'era stata una grande faida che aveva determinato delle morti proprio efferate circa 300 persone che avevano determinato una sorta di frammentazione all'interno della mafia e quindi i Corleonesi avevano generato una loro forza e l'astigia che era poi stata quella una cellula che ambiva ad essere autonoma furono quelli che concepirono il vile efferato delitto di un magistrato che era di una semplicità enorme. Ucciderlo sarebbe stato di una semplicità perché faceva sempre la stessa strada con una Ford Fiesta di colore amaranto e quindi ucciderlo senza scorta ma non solo la sua vita non è stata fatta di rinunce sono state delle scelte che hanno determinato la vocazione di vivere la cultura dell'alterità quindi quando la legge gli consentiva di avere la scorta lui rinunciò a quella perché sapendo che svolgeva delle indagini molto delicate pensava che se dovesse succedere qualcosa di tremendo quantomeno non sarebbe stato esteso a persone che non c'entravano nulla e alle famiglie ha voluto risparmiare questo dolore e questa sofferenza che si è caricato sulle spalle e che ha affrontato con il coraggio di essere innamorato di Dio e questa sua semplicità perché io ho studiato molto attentamente la vita di Rosario Angelo Libatino e mi sono anche stupito non ho trovato un'intervista, non ho trovato un comunicato stampa dico questo è un magistrato particolarissimo oggi viviamo nella modernità della spettacolarità oggi viviamo nella modernità, nella spettacolarità il riservo di questo magistrato era qualcosa di straordinario basterebbe ispirarsi a questa figura per risorgere insieme e dare uno spaccato di giustizia che sia veramente degno e segno di questi tempi Rosario Libatino si è voluto neanche sposare proprio per non avere il problema di... ma che non solo era innamorato della sua amata e anche lì ha deciso con una scelta perché il cristiano non fa rinunce perché l'amore di Dio è così pieno che ogni rinuncia è un gradino che va verso questo amore di Dio che è un amore così immenso che ti fa vivere pienamente la vita e se tu consideri che quando è stato ucciso ai suoi esecutori materiali di questo diritto disse... ma che cosa vi ho fatto che cosa vi ho fatto cioè uno sta morendo e il pensiero che ha avuto era quello della sua... comprende le ragioni esatto ed era quindi in una dinamica veramente complessa e tutta la sua vita ha utilizzato un riservo così profondo che risentava quasi il parossismo quindi era un atteggiamento così riservato chiuso che veramente è un modello ed è un modello non solo per la magistratura ma è un modello anche per i giovani per questa vita specchiata per questo rigore ci sono due opere fondamentali della vita di Rosarangelo Livatino senza le quali non possiamo comprendere la bellezza di questa vita di un laico che è santo ma santo lo è diventato nella ordinarietà nella sua semplicità e sono fede e diritto e il magistrato nella società che cambia sono due scritti che sono una meraviglia sono una meraviglia che consiglio e non mi farà parlare più perché non so cosa dire no perché dicono infatti tagliare io voglio dire solo un'altra cosa perché mi dicono taglia 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 però non gli operatori naturalmente che loro rispettano il giornalista ma chi deve iniziare il convegno e volevo dire un'altra cosa ricordiamo in realtà che gli uomini che hanno fatto questo efferrato delitto un carissimo amico mio gli uomini suoi l'ufficiale dell'arma io ti ringrazio che mi dici questa cosa perché Patrizia mi ha fatto conoscere il generale dei carabinieri il dottor Giuseppe Finocchiaro col quale sono stato piacevolmente circa 40 minuti a discutere e mi ha detto una cosa credo quasi inedita diceva avvocato ma lei lo sa che gli esecutori materiali li abbiamo materialmente arrestati noi per un caso perché lui si occupava del traffico di stupefacenti a livello internazionale e intercettarono una telefonata loro erano in Germania e proprio intercettarono questa telefonata che metteva in evidenza che di lì a poco avrebbero commesso quel delitto e poi sulla base di questa ricostruzione proprio sono stati arrestati tra i quali sono stati otto ergastoli e poi tra parentesi uno degli esecutori si è anche pentito perché anche questo gesto finitimo che lo vedeva nell'estrema situazione che lo stavano uccidendo e quindi vedendolo così anche lui era rimessivo anche in questo anche rimessivo anche in questo considera che era non era molto alto era anche esile e ricordo una frase che mi ha colpito tremendamente il cuore dicevano che quando lo hanno visto inerme privo di vita sembrava quasi un uccellino e quindi questa cosa mi ha veramente profondamente attraversato il comune di Mazzara del Vallo ha il piacere di condividere con la città l'inaugurazione della fontana per piazza Mocarta di Pietro Consagra in occasione del suo recente restauro l'11 dicembre alle ore 16 presso la ex chiesa di San Carlo Borromeo un convegno racconterà il restauro curato dalle ditte sponsor Chira Ema e Marino alle ore 17.30 in piazza Mocarta l'installazione audiovisiva di Antonio D'Addio e la performance teatrale di Massimo Vinti accompagneranno l'inaugurazione dell'opera alla presenza delle massime autorità cittadine vi aspettiamo